Aspetta riparto Ciao raga, io sono Simone di Outdoor Portofino e ho la fortuna di svolgere il mio lavoro proprio qui alle 5 terre questo perché sono una guida kayak e i nostri tour qui sono attivi tutto l'anno il Parco Nazionale delle 5 terre e la sua area marina protetta sono uno dei luoghi più affascinanti di tutta Italia ma oserei dire anche del mondo intero perché qui arrivano turisti da ogni parte del globo per farsi una passeggiata tra i vicoli di Vernazza, un trekking magari più impegnativo tra Manarola e Corniglia visitare il centro storico di Rio Maggiore e le sue bellissime colline oppure godersi un bicchiere di sciacchettra a Monte Rosso il modo migliore per visitare le 5 terre, almeno secondo me, è partecipare a uno dei nostri kayak tour dal mare abbiamo la possibilità di raggiungere luoghi che normalmente non sarebbero raggiungibili sia via terra sia anche attraverso l'uso di una barca poiché con il kayak ci possiamo avvicinare alla costa il più possibile per avere un'esperienza molto più intensa con il kayak possiamo raggiungere baie segrete come quella del portetto possiamo visitare una bellissima baia protetta dagli scogli dove si trova una cascata chiamata l'acqua pendente e numerose grotte bellissime grotte scavate dalle onde e dall'erosione del mare tra aprile e settembre è anche disponibile il nostro sunset kayak tour è un'esperienza magnifica un tour pomeridiano con aperitivo al tramonto le 5 terre sono un luogo di storia e di cultura qui è forse dove la tradizione ligure tocca al suo apice nelle 5 terre sono passati i romani che hanno fondato i loro primi insediamenti dopodiché sono diventate luoghe di battaglie tra genovesi e pisani durante il medioevo rinascimento qui il vino sicuramente la fa da padrone ma ci sono anche leggende di tesori, misteri e tutto questo compone il grande fascino di una parte della nostra amata Liguria che vale la pena di visitare almeno una volta ma anche di più se avete qualche domanda o semplicemente qualche curiosità sulle 5 terre su outdoor portofino commentate questo video mi raccomando fate like, fate share per outdoor portofino e ci vediamo in mare ciao